Torino è la prima città pro marijuana d'Italia. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato con 15 voti favorevoli contro i 13 contrari la proposta avanzata da Marco Grimaldi di Selle. Fortemente contrari gli esponenti della Lega Nord, la liberalizzazione delle droghe leggere non è sicuramente una priorità per la nostra città, ma visto che la maggioranza in questo momento lo considera un problema di importanza fondamentale, dichiariamo la nostra contrarietà, ha commentato il capogruppo Fabrizio Ricca. I dati dell'Asla intanto indicano che il 4% dei piemontesi tra i 15 e i 64 anni hanno fatto uso di marijuana negli ultimi 12 mesi, ma la cosa che lascia di stucco è che dal 2008 al 2012 il numero di chi consuma cannabis si è più che dimezzato. Il quadro tuttavia resta preoccupante tra i più giovani, il 20% degli studenti infatti dice di averla fumata una o più volte nel corso dell'ultimo anno e il 9% di questi ha solo 15 anni. Cosa accadrà nel caso in cui la marijuana venga legalizzata nessuno lo sa, ma quel che è certo dicono i medici è che gli effetti sui più giovani sono indelebili. Noi chiediamo che il Parlamento e il Governo cambino questo impianto proibizionistico sulla base di tre principi. Il primo è contrastare le narcomafie che hanno avuto solo degli interessi su questo tipo di politiche proibizionistiche. La seconda è far uscire migliaia e migliaia di persone che sono entrate, secondo me, ingiustamente nelle carceri. E la terza è far uscire dall'illegalità centinaia di migliaia di consumatori. Poi c'è un effetto indiretto, positivo, come dice la Sapienza di Roma. Questo tipo di iniziativa potrebbe generare miliardi e miliardi di utili per lo Stato, grazie a un'accise che, come l'abbiamo sull'alcol e il tabacco, potrebbe essere anche introdotta per la legalizzazione delle droghe leggere e della cannabis. Ecco, tra l'altro la legalizzazione delle droghe sia a livello terapeutico che ricreativo, giusto? Io credo che il processo sia quello che in parte ci indicano anche alcuni stati degli Stati Uniti d'America che prima hanno iniziato con l'uso terapeutico ma poi anche l'uso ricreativo, con la possibilità di autoproduzione fino a due piantine e poi magari la possibilità anche tramite convenzionamenti, con cooperative o con lo Stato stesso che con il monopolio inizia a produrre anche l'uso ricreativo. Oggi qualcuno mi ha svegliato, un giornalista mi ha svegliato dicendo ma questo non è un centio per i giovani a drogarsi, lei non crede che ogni tossicondipendente poi abbia iniziato anche da una canna? E io gli ho detto, guardi, lei ha mai bevuto un bicchiere di vino, ha mai bevuto un boccale e per questo etilista lei tornerebbe indietro su queste politiche proibizionistiche che all'inizio del Novecento vietavano anche alcol e tabacchi? Beh, lui mi ha detto di no e credo che bisogna avere lo stesso atteggiamento laico anche su questi temi.